L'investimento prevede palestre nuove o rinnovate per aumentare l'offerta di attività sportive già dalle prime classi della primaria e su tutto il territorio nazionale. Grazie ad attrezzature moderne e innovative, inclusa ove possibile una componente ad alta tecnologia, si potrà valorizzare la funzione dell'attività motoria e sportiva per la promozione di stili di vita salutari, per garantire l'inclusione sociale, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri. Ecco i numeri di questa linea di investimento. 300 milioni di euro, 2859 domande arrivate,